Signori, io e Marley, commedia del 2009 con la fantastica Jennifer Aniston e Owen William Wilson, mamma mia, che sembra che sia ripreso, commedia molto carina, senza fare spoiler è un casino, fatta bene, gli diamo un bel 8 perché è anche un 8.1 perché veramente ti lascia qualcosa, basta così al momento su Netflix, un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciate un like, ciao ciao. Grazie.